Il consigliere di opposizione Alessio Cairone con una interrogazione chiede l'apertura di una sede di staccata dell'ufficio comunale nel quartiere di Belvedere e della presenza di una forza di polizia municipale sul nostro territorio per garantire la sicurezza ormai profondamente minata. Diverse volte in consiglio comunale prosegue, ho già portato all'attenzione dell'amministrazione queste due problematiche ma la mia voce non è stata ascoltata. Il mio unico desiderio è stato e sarà sempre quello di tutelare ognuno, soprattutto gli anziani, che hanno difficoltà a spostarsi verso il centro città e i ragazzi, verso i quali le istituzioni sono debitrici di tutela attraverso gesti concreti. Infine lancia un appello. Attendiamo che almeno questo documento scritto smuova gli animi al bene comune.